in questa parte di casa i miei praticamente hanno acquistato questo terreno negli anni 60 e anche il vigneto Rocche di Castiglione è diventato anche lui nel 2010 ma già dagli anni 90 si è sempre vinificato invecchiato a parte qui siamo su un crinale su una posizione molto impervia molto ripida abbiamo un'esposizione di sud est è un vigneto singolo siamo poco meno di 4000 metri le Rocche di Castiglione hanno la loro diciamo immagine la loro bellezza nell'eleganza del vino ecco tutti quelli che assaggiano i baroli Rocche di Castiglione dicono un vino elegante pronto anche di struttura ma soprattutto ecco questa pulizia questa eleganza nell'apparire un vino un vino particolare ecco quindi è un vino importante e cui la mia famiglia anche ha creduto e ci crediamo anche noi quindi una cosa buona grazie a tutti